Che è successo? I miei anni ti ha rotto una rapina Sbaratoria! Sbaratoria! Abbiamo appena ucciso una marea di poliziotti Una serrata caccia all'uomo Se non li becco entro le prossime 3 o 4 ore sparisco Come pensi di fare? Chiudiamo l'isola 21 ponti collegano Marathon Sbarrateli Fermate i treni, isolate le linee metro Poi inondiamo l'isola di più In prima visione, City of Cry Questa sera 21.20 Rai 3